Adesso iniziamo ad analizzare le carte. Rispondiamo alle cinque domande. Una carta, cinque domande e cinque risposte. La prima domanda è un significato generale. Seconda domanda, decisione. Già conosciamo sì o no o così così. La domanda terza è il tempo. Il richiesto è quando. Prossima domanda, la salute. E dopo. Ultima domanda. Rovescio. Che cosa significa rovescio? Cosa sbaglio? Quale errore? Quando la vita non va bene, dobbiamo domandare cosa sbaglio. Perché non va la vita? Allora, cominciamo a analizzare prima volta solo sei carte degli tarocchi, degli arcani maggiori. che si chiamano in altro modo arcana grande. circuito, che sbaglio da, taglia può fordicare. No. Inoltre. ill SLOW ORLA نتimbo. Inoltre. Grazie a tutti.